Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno, occhio ai giornali sul canale 17 di Fano Allora benvenuti cari telespettatori, siamo pronti per dare come sempre un sguardo al calendario, vedere il santo, poi le previsioni del tempo e i giornali che come sempre abbiamo selezionato per voi questa mattina Cominciamo dal santo, oggi la chiesa ricorda San Martino di Turse o il sole esorcerà tra un minuto e tramonterà alle 16.48 E adesso il tempo L'anticiclone meno invadente nel corso dei prossimi giorni torna qualche pioggia, già a partire da domani nella nostra regione c'è l'estate di San Martino Le temperature previste per le giornate di oggi che andremo a vedere anche con l'aiuto della protezione civile delle marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso Durante la sera e nella prima parte della notte avremo qualche piovasco sui settori settentrionali della nostra regione Per domani eccolo qua il tempo nuvoloso con al mattino di domani rovesci sparsi sui settori settentrionali In scivolamento verso la costa centrale sui settori interni, rovesci occasionali invece altrove I fenomeni si esauriranno da mezzogiorno in poi, le temperature saranno in diminuzione, le massime invece ancora leggermente in diminuzione Per quanto riguarda venerdì 13 il cielo torna sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato invece per il fine settimana I giornali, il Corriere Adriatico, l'apertura, tamponi triplicati, rebus tempi con l'aumento del numero dei test ai punti drive Ora anche i reagenti rischiano di scarseggiare Il prof Giacometti invece sul plasma iperimmune dice speravamo in risultati migliori, ieri altri 10 morti Ma nei giornali di oggi si parla in particolare dello stop al nuovo ospedale unico Fano Pesero Ma anche quelli, gli altri della regione In questo caso l'ira di Ricci, il sindaco dice vado dal ministro E poi ancora, biodigestore, è ora di svelare i piani, convocata Marche Multiservizi Sgarbi, il video shock che offende Varotti, riunisce i ristoratori E poi a Fano Uliva è nel cast del video di Futura La Barba, Galeotta, il video è quello che riguarda Lucio Dalla Poi Serie C, la Vis scopre un positivo ma oggi gioca Per il Fano invece derby a fermo Di spalla le commissioni, centrodestra, blizze col Movimento 5 Stelle in regione PD all'angolo, non si fanno prigionieri Scrive Martina Marinangeli Il blizze del centrodestra nella nomina dei vicepresidenti delle commissioni consigliari Che ha messo il PD all'angolo Ha mandato un messaggio chiaro Abbiamo la forza dei numeri e la faremo valere Questo invece è il carlino di Pesero Aggrappate la zona gialla La fotonotizia di oggi Contagi e indice rettile Marche restano sotto il livello di guardia Ma ora tutto dipende dalla tenuta delle terapie intensive Ospedale unico, KO, ora è guerra Il PD che fine faranno i 120 milioni dell'accordo Stato-Regioni Il centrodestra invece esulta e dice La promessa è mantenuta Il ritorno in vasca del campione di nuoto Filippo Magnini, parla il primo allenatore di Magnini Tokyo, sarà dura arrivarci E poi una sentenza del tribunale Morì un paziente, maxi risarcimento dopo 15 anni E poi invece la lista della regione Il Covid hotel, il plaza di Fano non c'è Il Flaminio a Pesero invece sì Ma tra le riserve Dopo il servizio in tv su Rete4 Bimbi senza pc per la scuola Un commercialista, il commercialista è un fanese Renier, ne regala 5 VL, basket, un altro positivo A rischio la gara con la Virtus La C in campo, anche nella vispesero Spunta un nuovo contagiato Sotto le grandi manovre in confrindustria Pure tonti contro Papalini Non è solo una guerra dal fronte d'ori Con lettera firmata dall'ex presidente pesarese E poi la moglie di Ivan Graziani L'indimenticato cantautore Anna dice il mio Ivan e il film dedicato a lui Tanto ancora da dire sulla sua storia Il progetto frenato però dalla pandemia Allora parliamo adesso dell'ospedale unico Ci sono molte cose da leggere sui giornali di questa mattina Allora l'addio agli ospedali unici per Pesero sarà battaglia Mentre il virus picchia duro L'assessore al bilancio Castelli dice Avviato l'iter per il nuovo piano sociosanitario Ieri 504 positivi I ricoverati sono arrivati a 600 Dieci le vittime stroncate dal Covid Allora intanto va detto che E lo scrive Maria Teresa Bianciardi Questa mattina sul Corriere Adriatico Va detto che adesso la strategia prevede Un'accurata analisi dei fabbisogni E una necessaria rivisitazione delle scelte Sulla rete ospedaliera operate dalla precedente giunta Quella di Ceriscioli Con la massima attenzione a non sguarnire i territori Ma anzi con la ferma volontà di potenziare i servizi E quindi addio Insomma niente Sì addio agli ospedali unici previsti nella regione Sono per esempio Quello a San Claudio di Campiglione In provincia di Fermo dove erano previsti 362 posti letto Per un investimento di 70 milioni di euro E un quartiere che sarebbe dovuto partire nel 2018 Ai saluti anche la struttura Partita malissimo A Contrada della Piava in provincia di Macerata Con 500 posti letto E un costo di 200 milioni Qui la presenza di diossina nell'area individuata dalla regione Ha rallentato infinitamente le operazioni di realizzazione Stessa cosa per quella di Pagliare del Tronto In provincia di Ascole Discorso diverso invece per l'ospedale unico di Muraglia Qui siamo a Pesaro 550 posti letto Per 200 milioni di euro Di investimento E che però rispetto agli altri ospedali Qui il progetto era molto avanti Rispetto agli altri Il sindaco Ricci ha già annunciato la battaglia E con il centro-destra sarà uno scontro All'ultimo Project Financing Il Carlino Ospedale unico Ora è guerra Che fine faranno Che fine fanno i 121 milioni Ceriscioli Dice perso un investimento gigantesco Il PD all'attacco Dopo la decisione della regione Biancani Quei soldi resteranno qui O finiranno a beneficio di altri territori Dunque la domanda Scrive Benedetta Iacomucci Sul calendario Questa mattina è Che fine faranno Questi 121 milioni Già pronti Da incassare Per il nuovo ospedale unico Di Pesaro e Fano Restaranno in provincia O se ne andranno altrove All'indomani Del colpo di spugna Della regione Che con il voto unanime Della maggioranza E dei 5 stelle Ha fossato il progetto Per la realizzazione Dei nuovi ospedali marchigiani Si apre un dibattito Non solo E non tanto ideologico Quanto economico Perché un cantiere Da 250 milioni di euro Tanto sarebbe costato Il nuovo ospedale Pesaro e Fano Non è qualcosa A cui si possa voltare le spalle A cuor leggero Allora Iacomucci Ha sentito Ceriscioli L'ex presidente Che dice Con quei soldi Non faranno nulla Secondo la sua previsione Per la sanità Della nostra provincia Dunque Secondo Ceriscioli Tutto resterà così come prima Con un ospedale del 1904 E uno del 1912 Avviare cantieri Non è una cosa semplice Ci vogliono anni e anni Noi abbiamo fatto Molti investimenti Dice ancora Ceriscioli Sugli ospedali interni Urbino Sassocorvaro Cagli Pergola L'ospedale provinciale Non avrebbe impedito Di continuare Anche su quel fronte Ma si metteva in moto Un investimento gigantesco Per l'economia Senza calcolare l'indotto E se questo è il primo passo Del nuovo governo Auguri Dice Ceriscioli Ma non è possibile Che una giunta regionale Con tre assessori Della provincia Butti via un'occasione Del genere Dal Corriere Di nuovo Stop all'ospedale nuovo Vado a Roma Al Ministero Dice Matteo Ricci Che In calza Mentre in tutto il paese Si ragiona Su come aumentare Gli investimenti pubblici Sulla sanità Cosa fa la giunta regionale Prova a cancellare Un investimento Di 250 milioni Sulla nuova struttura Ospedaliera Tra Pesaro E Fano Di cui Discutiamo Da 30 anni E' una cosa inaudita E noi daremo Battaglia Dice Ricci Se i pesaresi Non trovano risposte Sulla sanità Non vanno A Pergola Come sostiene qualcuno Ma vanno In Romagna E quindi Cosa succede? Qual è lo scopo? Aumenta La mobilità Passiva In questi anni Mi sono fidato Di Ceriscioli Dice Ricci Ora scendo In campo Parlerò anche Con l'assessore Saltamartini Perché non mi sembra Proprio Allineato Aguzzi festeggia Invece La Lega Attacca Ricci Baldelli Granitico Invece Dice Viva la coerenza Il centrodestra Esulta Ma l'ex sindaco Di Fano Fu tra i sostenitori Dell'ipotesi Fano Fosso Segiore L'assessore Pergolese Invece Passa all'incasso E Marchetti Dice Il PD Difende i servizi Che ha smantellato Dunque Non mancano Le frecciatine A Ricci Sono quelle Della Lega Il sindaco Ricci Scrivono il commissario Riccardo Augusto Marchetti Il gruppo Consigliare regionale Della Lega Si rimetta Subito in tasca Il ditino Con cui accusa La maggioranza Regionale Di lavorare Contro Pesaro E il suo territorio Ci vuole faccia tosta A fare il difensore Della sanità territoriale Dopo che lui E il PD L'hanno smantellata Presidio Dopo presidio Per svenderla Con discutibili Operazioni Di project financing La Lega Con la sua rivoluzione Ha rappresentato La volontà espressa Con il voto Dei marchigiani E c'è questo feeling Tra il Movimento 5 Stelle E il centrodestra Così il PD È finito All'angolo Questo Feeling Sulle commissioni Il giornale parla Di blitz Mastro Vincenzo Ne esce indenne Fuori dagli incarichi Carancini Cesetti L'intento È quello di indebolire Ancora di più Il centro-sinistra Che però Già è All'opposizione Una ripicca Della destra Nel mirino C'è Pesaro Sempre dal Corriere Amadori e Fraternali Si fanno portavoce Della rabbia Dei Democrati Il no della regione All'ospedale nuovo Di Pesaro È una ripicca Della destra Il territorio Ha bisogno Di ospedali nuovi Innovativi E moderni Ma la destra Afferma tutto Per ripicca Contro Pesaro E Urbino La Lega Ricci E il PD Hanno una bella Faccia tosta Dopo che hanno Smantellato La sanità Del territorio Adesso Due paginette Semplici Semplici Sul Covid Quindi Continuiamo A informarvi Senza Esagerare Tralasciando Quelle che sono Le pagine Che insomma Mettono Soltanto Ansia E Cattivo umore Allora Ribadendo A tutti quanti Di mantenere Distanze Mascherine Obbligatorie Ovunque E Igiene personale Al top Detto questo Rischiamo la zona arancione Il titolo Del carilino Di oggi I contagi E l'indice RT Tengono Tutto dipende Dalle terapie Intensive Il ministero Mette le regioni Sotto i riflettori Ma le Marche Per il momento Non rischiano Occorre però Prepararsi All'impatto Dei ricoveri Che già Si prevedono Sono 75 I letti I posti letto Occupati In questo momento Nelle rianimazioni In tutta la regione In tutta la regione Marche Quindi la situazione Al momento ancora Non è critica Però Fanno previsioni E quindi Naturalmente Quei numeri Sono Destinate Ad aumentare Triplicati Invece I tamponi E dunque I tempi Di risposta Rischiano Di dilatarsi Con l'aumento Del numero Dei test Anche i reagenti Arrivano In qualche modo A scarseggiare In un mese Ritmi Sempre più serrati Ai punti drive Di Pesero Fano E Urbino Mentre Sulla terapia Al plasma Dal Carlino Di Ancona C'è questa intervista Ad Andrea Giacometti Primario Della clinica Di malattie Infettive Che dice Ora servono Però donatori Le scorte Stanno finendo Abbiamo ancora Soltanto Altri 80 Trattamenti E prima Vedevamo Molti anziani Con polmoniti Gravi Ora invece Giovani Stranieri I ricoveri Salgono A 600 Le marche Oltre 10 Vittime Questo è il quotidiano Bollettino Del Gores Che vede salire Anche il dato Delle terapie intensive Piccola frenata Invece Per i contagi Nella provincia Anconetana Ieri sono stati 102 Ieri invece Sono un po' aumentati Nella provincia Di Pesero Siamo arrivati Intorno ai 70 Assolutamente Siamo sempre Intorno ai 50 50-60 Vedremo oggi Il dato di oggi Sarà interessante Intanto Il Corriere Pubblica L'intervista Invece Al professore Andrea Giacometti Primario Di clinica Malattie infettive Di Torrette Che segue La ricerca Sul plasma Iperimmune Nelle marche E il titolo è Con il plasma Iperimmune Abbiamo trattato 80 pazienti Speravamo In risultati Migliori E dice Che Il primo paziente È stato arruolato Il 20 agosto Scorso In totale I trattamenti Fatti nelle marche Sono stati 80 Di cui 40 Nell'ospedale Di Marche Nord Quindi a Pesero 20 ad Ancona E 20 all'ospedale Di Fermo E poi spiega Come funziona Questo trattamento Allora Dalla giunta Quindi chiusa la pagina Covid Anche se lo ritroveremo Un po' sparso Qua e là Nelle pagine Dalla giunta Arriva il via libera Becchetti Segretario generale Ieri la delibera Che ha ufficializzato La nomina Pistarelli Capo di gabinetto La Giraldi Decade E torna a dirigere Il servizio affari istituzionali E integrità Afano invece Restò paralizzato Per un errore medico Un milione Di risarcimento Dopo 15 anni Non si accorsero Al pronto soccorso Di Fano Che aveva La vertebra Fratturata Per colpa Di una caduta Tanto da finire Paralizzato Per poi morire Nel giro di un anno Ora l'Asur Area vasta 1 È stata condannata A pagare agli eredi Di un 65enne Fanese La somma Di un milione E 104 mila euro Il giudice Ha riconosciuto La negligenza Dei medici Che visitarono Il paziente Al pronto soccorso Del Santa Croce Condannando L'Asur Al pagamento Del risarcimento Tutti i dettagli Nella cronaca Scritta Da Roberto Damiani Sul Carlino Sulla pagina Di Fano Invece Del Corriere Il comune Ha sfrattato La carnevalesca Il titolo È impossibile Convivere In piazza Andrea Costa L'utilizzo Condiviso Dell'ufficio Tributi Crea rischi Di assembramento Dunque l'ente Trasloca A palazzo Gabuccini Qui vedete La foto Del palazzo Dove Torna Perché se non ricordo male O c'è stata Qualche foto Oppure Forse mi confondo Con l'ente Manifestazioni Ma comunque Questa è la foto Della nuova sede In corso Matteotti Ora è più vicino All'isola ecologica In ambito portuale L'accordo Tra la capitaneria E l'amministrazione Avvia L'iter Burocratico Mentre L'altra pagina Di Fano Qui sono fotografie Scattate Su un set Allora Uliva Che tutti Conosciamo Umberto Uliva Nel cast Del video Di Futura Galeotta La sua leggendaria Barba Come vedete Tra i protagonisti C'è anche Il figlio La Sony Festeggia Così i 40 anni Dell'immortale Canzone Di Lucio Dalla La canzone Appunto Futura E adesso Per Umberto Uliva Fanese Selezionato Per la sua Inconfondibile Sagoma Il cast Il cast Il cast del video Che 40 anni Dopo celebra Una delle canzoni Di Lucio Dalla Che fra le tante Sono meglio riuscite A catturare L'immaginario collettivo Qui lo vedete Invece Umberto Uliva Nella Nella piazza Fontana Di Nettuno In piazza Maggiore A Bologna Le scuole Calcio Insieme Invece Per una Campagna Informativa Lettera Alle famiglie Per proseguire L'attività In tutta Sicurezza I nuovi poveri Dal ceto Medio Report Della Caritas Di Fano Il trend Tanti italiani E soprattutto Uomini Vivono nella povertà E nell'incertezza Persone e famiglie Che fino a qualche anno fa Erano ceto Medio Sono state sospinte In questa condizione Dalla perdita Di un lavoro Di lavoro E di reddito In una comunità Resa più fragile Nell'attuale Tempo sospeso Della pandemia L'appello del Vescovo Chi ha di più Deve avere Anche il buon senso Di tendere La mano Andiamo sull'altra pagina Del Corriere Adriatico In Comune Siamo su Pesaro Arrivano i totem Agli ingressi Per rilevare la febbre Termoscanner fissi Saranno installati Nei luoghi Al pubblico E spazi comuni La disciplina Dell'accesso ai servizi Fa parte del nuovo Protocollo di sicurezza Parliamo di come si potrà Accedere al Comune Di Pesaro Da adesso in poi Biodigestore invece Si svela il progetto Il Comune Chiede di fare presto Radaelli Della Commissione Partecipate Convoca Marche Multiservizi Pesaro Vallefoglia Il nodo Del sito Camion diretto Alla discarica Invece vola Nella Scarpata Un incidente Ad un mezzo Che trasporta rifiuti Alla discarica Ricaddicca Asprete Un incidente Che è successo Ieri mattina Video shock Di Sgarbi Contro Varotti E le offese Ricompattano i ristoratori Il direttore di Commercio In cassa La solidarietà Di Ristor Italia Un filmato Giudicato Scandaloso E poi Via dell'Acquedotto Sempre a Pesaro Soluzione Del Comune Gestione Lampo Per le piste Di Pamp E Skate Affidata Alla Bike Trail Fino a Gennaio Per disciplinarli Accessi E utilizzo Da parte Degli Appassionati E ancora Dalla Pagina Di Vallefoglia Centri commerciali Ucchielli Impressing Il sindaco Scrive al Consiglio Di Ministri Negozi autonomi Prigionieri Delle licenze Dopo il quesito Urgente Inviato da Carloni Entra in azione Anche il senatore E ancora Dalla pagina Di Urbino Pronto soccorso Mezzolani In uscita Previsto a dicembre Il pensionamento Del dirigente Storica anima Del reparto In prima linea Gambini Invece Ritiri La nomina Di prosindaco A Sgarbi E' una richiesta Che arriva Dal Partito Democratico E da Viva Urbino La maggioranza Ne giustifica Il patologico Protagonismo E di questi Ultimi giorni Insomma Sicuramente Non ha Aiutato Famiglie E crisi Il Comune Aiuterà Ma non sa come L'assessore Servizi Sociali Attende di vedere Le misure Del governo Per decidere Poi Le proprie Gambini Ci ascolti Abbandoni Sgarbi Al suo destino E gli tolga La carica Di prosindaco Rosati Dopo la cena Vietata Nel ristorante E le parole Dette La città di Urbino Ne paga Le conseguenze Lo vedete Sgarbi In quella fotografia Con il giubbotto Antiproiettile Valmetauro Scelta Covid free Per l'ospis Ruggeri In calza Il governatore Presentata Una mozione In regione Rossi Invita Saltamartini A Fossombrone Annullata La mostra Mercato Dell'olio Di cartoceto A causa Dell'emergenza La 44esima Edizione Della mostra Dell'olio Salta Nuova Fermata Per gli autobus Invece A Mondolfo Cambia volto La via Cesanense La pensilina Realizzata Lungo La statale 16 Potenziamento Dell'illuminazione Poi sotto Ho salvato Un cane Che vagava In autostrada Un cane Da caccia Che è scappato E si è perso In autostrada Viene salvato Dagli automobilisti E dalla polizia È successo Ieri mattina Poco dopo le 9 All'altezza Dell'autogrill Tra Marotta E la zona Di Cesano Triage Sicuro Arrivano Il container Di fronte all'ospedale Mancano operatori Però al front office L'allarme dei sindacati Sulla carenza del personale Sindaco di Senigalli Olivetti Dice La situazione Dei contagi Qui è seria E poi Una classe Della materna Che è finita In isolamento A Corinaldo Siamo alle pagine Di sport Fanno il derby Di destro Destro Il nuovo allenatore Affermo Serve autostima L'allenatore Torna nello stadio Dove è stato protagonista Per 4 anni Per me sarà un'emozione Per fare punti L'alma deve avere fiducia In sé Le moto invece Iannone Shock 4 anni di stop Dagli amori VIP All'incubo doping Il Tass Respinge Il ricorso E squalifica Il pilota Dell'Aprilia Mi hanno strappato il cuore Dice Iannone Ma non mi arrendo Lorenzo Al suo posto Il team Si dice vicino All'Abruzzese Ma deve trovare Il sostituto Mentre Sul fronte Di nuovo calcistico La vice C'è un altro positivo Oggi il Cesena Albenelli Il covid torna Nel gruppo squadra Un contagiato Ma si gioca regolarmente Centrocampo decimato Il baby Galdensi Dice in allerta Assieme a Pannitteri Mentre su Eleven Sport In chiaro Una gara ancora A porte Chiuse Siamo Sulla pagina 7 Del resto del Carlino Per parlare Della VL Pesaro Rialza la testa Ma mancano I tifosi La VL Tra le prime Sei Non accadeva Da otto anni La festa È a distanza Gli appassionati Possono guardarla Soltanto In televisione Il leader del gruppo Ha ringraziato I sostenitori Quindi la dedica Di Delfino Peccato non averli con noi La società incredula Il presidente Amadori Non siamo abituati A stare così in alto Praticamente Dicono In alto in classifica Ci gira la testa Insomma È carina come cosa Divertente Insomma Perlomeno Dà l'idea Insomma Di come sono andati Questi ultimi otto anni Dove la La VL Era semplicemente Ancorata in fondo La classifica Oggi invece È in alto Allora Tamponi triplicati Andiamo di nuovo a vedere Per chi si fosse Sintonizzato in questo momento Sul canale 17 Tamponi triplicati Rebus tempi Con l'aumento del numero Dei test E punti drive Ora anche i reagenti Rischiano di scarseggiare Il prof Giacometti Dice Speravamo risultati migliori Con il plasma e per immune Intanto ieri ci sono stati Dieci morti Ma sul giornale Di questa mattina Leggerete Sia sul Corriere Che sul resto del Carlino Dello stop Tutti gli ospedali unici Previsti Nella nostra regione In questo caso Ovviamente si parla Nell'edizione pesarese Dell'ospedale di Muraglia Una decisione Quella del governatore Di tutta la giunta Insomma Che ha fatto andare Su tutte le furie Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che ha detto Adesso vado al ministero E vado a parlare Con il ministro E poi Cercherò di incontrare Appunto Anche il governatore Non si possono Prendere decisioni Senza tener conto E senza parlare Prima con I rispettivi sindaci Di Pesaro E di Fano Quindi con Con lui E con Massimo Massimo Seri Andiamo a vedere Prima di chiudere Invece anche La prima pagina Del resto Del Carlino Eccola qua La fotonotizia È per gli aggrappati Alla zona gialla La fotonotizia È per quanto riguarda Il covid Si fa riferimento Ovviamente Alla situazione Che le marche Stanno vivendo Ancora In questo momento Le marche sono Zona gialla E di conseguenza Ci sono restrizioni Sì Ma Con Bar aperti Ristoranti aperti Fino alle 18 Quindi Comunque a pranzo Ecco Questo ci consente La zona gialla Di godere Mentre se già Diventassimo arancioni La situazione Sarebbe completamente Diversa Con bar chiusi Ristoranti chiusi Anche a pranzo Insomma Tutto diventerebbe Più complicato Quindi Forza marchigiani Continuiamo A rimanere Bravi E diligenti Cerchiamo Di Fare la nostra parte Perché Il virus Si Trasmette Solo Se noi Non ci comportiamo Bene E non facciamo bene Quello che ci viene Richiesto Noi ci fermiamo qui Stasera alle 20.30 C'è il telegiornale Grazie per averci seguito L'augurio di trascorrere Una serena Una piacevere giornata Anche in compagnia Dei nostri programmi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti